Giornata sostanzialmente positiva per le principali borse europee, ad eccezione di Madrid, che chiude con un meno 0,74%, e di Francoforte, che perde lo 0,27%. In terreno positivo Londra e Parigi, poco al di sopra della parità. Molto bene Milano, che guadagna lo 0,96%, lieve guadagno anche per l'indice Ero Stoxx, che ha reagito positivamente ai segnali di ripresa evidenziati dal presidente della BCE Mario Draghi, che ha parlato di contagio positivo sui mercati. L'euro è sceso dello 0,1% nei confronti del dollare e viene scambiato a 1,34,52%. Sul fronte dei mercati delle materie prime è stabile la quotazione del Brent.